Il grande ritorno dei dimenticabili dopo una settimana di ritardo perché insomma la Summer Game Fest la imponeva in qualche modo anche per evitare che la rubrica fosse in qualche modo schiacciata ma oggi torniamo con ovviamente l'immancabile trittico ovviamente il consiglio di una demo in chiusura e in mezzo qualche piccola dritta su Indy da tenere d'occhio annunciati o approfonditi durante la Summer Game Fest quindi avremo il nostro bel da fare io intanto vi lascio ai primi tre che spero possano stuzzicarvi vi invito come sempre a segnalare gli Indy che più vi interessano quelli che vorreste condividere con la community e noi ci vediamo tra pochissimo Gli umani e internet si sono fusi e agli uomini serve una scarica di dopamina ogni 10 secondi come ottenerla? Semplice, eliminando i propri nemici in un perverso gioco per la sopravvivenza questa è la premessa alla base di Mallet Marjack un gioco folle, frenetico, estremamente esplosivo che non vi lascerà un secondo per respirare allora, statisticamente il gioco è eccezionale o quantomeno perfettamente in linea con le mie corde come starete vedendo sembra di essere i protagonisti di un vero e proprio anime ma al tempo stesso il tutto si fonde con i tratti tipici di un retro shooter dando vita a un'atmosfera, secondo me, davvero irresistibile ma il vero fruco dell'esperienza è ovviamente il gameplay brutale, frenetico come vi dicevo e impreziosito da una fortissima componente ansiogena che deriva proprio dalla folle premessa narrativa ossia è veloce a eliminare i nemici o si vuole per alcuni, onestamente, i ritmi potrebbero risultare eccessivi e non vi nego che, soffrendo di motion sickness in più di un momento, ho sofferto un pochino sofferto ma se amate il genere beh, preparatevi a sessioni di gioco divertenti e sempre diverse soprattutto in virtù di un'impostazione roguelite che offre decine di potenziamenti con cui potrete sperimentare approcci sempre diversi e scatenarvi ben più di quanto pensiate ormai mi conoscete sapete che di norma sono uno che preferisce i giochi single player ma ci sono delle eccezioni delle meravigliose eccezioni e Keep Talking Nobody Explodes è assolutamente fra queste eccezioni si tratta infatti di un titolo cooperativo nato e pensato per essere giocato rigorosamente in due o in più di due dove uno veste i panni dell'artificiere e l'altro, beh, l'altro dà le istruzioni su come disattivare l'ordigno di turno potendo contare solo su un vero e proprio manuale di disinnesco ogni scenario offre sfide diverse a difficoltà ovviamente crescente rendendo la comunicazione fra i due giocatori sempre più articolata e complessa e questo soprattutto in virtù della necessità di agire rapidamente nella maniera più precisa possibile fornire indicazioni chiare che si tratti di descrivere l'ordigno o di spiegare quale cavo tagliare è chiaramente l'unica cosa che può fare la differenza tra un meraviglioso successo e una fragorosa esplosione per cui dovrete essere attenti precisi e il divertimento sarà assicurato anche perché molti potrebbero chiedersi vabbè ma che divertimento potrà esserci in una cosa simile e beh, penso che mai come in questo caso una clip valga più di mille parole un minuto e venti le belle indicator le belle è quello brutto non c'è un cento c'è un minuto e cinque aspetta abort ce l'ho, ce l'ho aspetta 50 secondi 56 siamo per esplodere send up appendix a 4 indicator abort hold the button if you start holding si the button down the color strip will on the right side si based on the color you must dai ma che flore vai vai ha 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 specific point di che colore blu strip white strip yellow strip 2 cavi gialli e 1 nero quale taglio? 2 minuti 2 cavi gialli e 1 nero quale taglio? 2 minuti hai sparato nero vabbè io su questa vi saluto perchè non gliela posso fare se amate visceralmente i metroidvania feudal alloy è uno di quei titoli che potrebbe davvero catturare la vostra attenzione è uscito diversi anni fa e intendiamoci tutt'altro che è perfetto sotto tanti punti di vista il gioco mi è entrato nel cuore sia per la sua folle premessa che per una progressione mai banale impreziosita da meccaniche che si ligano a doppio filo al protagonista così particolare il gioco racconta infatti la storia di un robottino in cerca di vendetta in un contesto dalle sfumature medievali in cui questo robottino è costretto a potenziarsi progressivamente nella speranza di opporsi a nemici sempre più temibili e resistenti il gameplay semplice e intuitivo ricalca la tradizione degli action RPG ma con alcune intriganti peculiarità trattandosi di un robot bisogna evitare di surriscaldarsi pena l'impossibilità di agire è necessario controllare regolarmente l'olio che corrisponde alla forza vitale e cosa ancora più importante bisogna cercare i migliori equipaggiamenti possibili esplorando ambientazioni ricche di segreti insomma pane per i denti di qualsiasi appassionato del genere e se a questo aggiungiamo un mondo di gioco interamente disegnato a mano che si traduce in un colpo d'occhio tutt'altro che banale come starete peraltro vedendo in questo momento è facile capire come mai Fiuda Lalloy sia ancora oggi ricordato con piacere dalla maggior parte di coloro che hanno avuto modo di provarlo all'epoca del suo debutto sul mercato come vi dicevo in apertura non parliamo di un gioco perfetto intendiamoci ma a cui sicuramente non mancano personalità e anima per stupire e dopo l'immancabile trittico eccoci qui con una parte un po' più discorsiva per chiacchierare questa volta dei tre titoli indie che più mi hanno colpito durante la Summer Game Fest sono molto diversi fra loro in realtà ma vale la pena parlarne e eventualmente wishlistarli che è quello che vi consiglio di fare ogni volta perché è comunque un bel segnale verso il mercato indie far vedere che ci interessa qualcosa come vi raccontavo qualche settimana fa allora il primo gioco che mi ha colpito e peraltro non alla Summer Game Fest ma già da un po' è Screambound allora questo è di fatto come starete vedendo un gioco nel gioco cioè è il classico platform se vogliamo ma visto da due prospettive completamente diverse nello stesso momento cioè noi ci ritroveremo a giocare quel che poi vedremo e faremo nel mondo reale è difficile da spiegare ma le immagini sicuramente parlano meglio di quanto possa fare io è un titolo che concettualmente sarà mind blowing nel vero senso della parola e non vedremo la di provarlo cioè questo è uno di quelli che avrei pagato per provare in demo ma purtroppo non c'è sul mercato in questo momento spero che arrivi e credo che sarà uno di quei prodotti in cui il livello il margine di errore sarà altissimo proprio perché questa differenza prospettica credo che creerà parecchia confusione nella mente di molti sicuramente nella mia detto ciò altro titolo che sicuramente non perderò occasione di giocare è Neva dagli autori di Gris titolo che peraltro vi consiglio ancora una volta di provare arriverà un altro titolo estremamente poetico estremamente suggestivo che se avete seguito la Summer Game Fest con noi saprete bene quanto ci ha colpito cioè a livello stilistico sembra rievocare molto le atmosfere di Gris quantomeno per la sensibilità con cui tutto viene dipinto a schermo ma devo dire che questa componente anche animale unita a quella umana credo che amplificherà tanto la potenza espressiva dell'opera e devo dire che non vedrò di provarla anche perché loro non hanno mai in qualche modo deluso né da un punto di vista artistico né da un punto di vista puramente ludico e onestamente non ho motivo di credere che Neva possa rappresentare un'eccezione in questo senso anzi mi aspetto ancora di più di quello che già abbiamo visto in Gris e chiuderei la parte dei titoli da tenere d'occhio con Wonderstop allora Wonderstop è un titolo che sulla carta non mi avrebbe intrigato perché bene o male gestisci la tua sala da te fai un po' di housekeeping gestisci un po' le cose di questa zona un po' l'animal crossing se vogliamo però la chiusura del trailer in cui si capisce che questa nostra protagonista in realtà nasconde un lato oscuro tipo la pulsione oscura di Baldur's Gate sembrerebbe accatturato la mia attenzione soprattutto in virtù del fatto che a sviluppare il gioco è lo stesso autore di The Stanley Parable e questo per chiunque abbia giocato a The Stanley Parable vuol dire tantissimo perché vuol dire che troveremo un prodotto pieno di colpi di scena e pieno di cose totalmente non convenzionali tanto da un punto di vista ludico quanto da un punto di vista narrativo per cui credo che quello che hanno presentato sia veramente fumo negli occhi e che sia lì per nascondere ciò che il gioco offrirà veramente io non ho idea di che cosa sia però mi aspetto una cosa tipo non lo so una sorta di titolo a metà fra Animal Crossing e Dexter la serie televisiva per cui non lo so però ecco è uno dei giochi che vi consiglio di finire d'occhio più di qualsiasi altra cosa insieme agli altri due perché credo che siano il meglio della Summer Team Fest in termini di indie puri e semplici indie proprio quelli alla vecchia maniera fermo estando che poi i gusti di ciascuno sono ovviamente sacri però sono i tre che più mi hanno colpito per cui tenete lì d'occhio e ovviamente ne parleremo qui quando arriverà il momento giusto la demo che vi consiglio in questo episodio è ovviamente quella di The Alters nuovo prodotto di 11bit Studios di cui tanto si è parlato e di cui tanto si parlerà l'unico problema di questa demo è che è disponibile fino al 17 per cui dovete essere veloci a scaricarla la trovate ovviamente su Steam un titolo molto particolare la cui demo permette di approfondire parecchio in termini di struttura narrazione e progressione per quanto chiaramente è limitato nei contenuti però vi darà un'idea piuttosto chiara di quello che potrete aspettarvi da questo titolo molto ambizioso molto particolare ma che sono certo stupirà tanto quanto hanno stupito i precedenti titoli di 11bit Studios per cui mi raccomando siate veloci approfittatevene e soprattutto godetevelo e così anche questa settimana si chiude la nostra puntata di indimenticabili io vi do appuntamento come sempre fra 15 giorni per il prossimo episodio come sempre vi invito a farmi sapere cosa ne pensate dei giochi che vi ho presentato cosa ne pensate degli argomenti che abbiamo trattato insomma tante cose di cui parlare e in chiusura una piccola una piccola insomma aggiunta mi avete segnato in tanti che su Harold Hallibut sarebbe arrivato l'italiano ebbene vi comunico che purtroppo non è così nel senso che hanno messo un placeholder c'è la voce nelle opzioni cioè italiano ma il gioco non è stato effettivamente ancora tradotto arriverà hanno detto gli sviluppatori ma per il momento non se ne parla questa insomma in uscita ci tenevo a darvi questa ulteriore piccola cosa quindi sappiate che quando sarà però sarà il primo a farvelo sapere detto questo come ogni episodio di Indimenticabile vi invito caldamente qualora vogliate a condividere il video con chiunque credete possa apprezzarlo non in senso ma con quelli che credete possano unirsi alla discussione e ovviamente ragazzi noi ci vediamo fra altri 15 giorni con l'episodio 21 ciao